Nel girone A di seconda c'è un terzetto di squadra al comando della graduatoria. Se Ziano e Baby Brasil rientravano nel novero delle favorite d'inizio stagione, è la Travese la vera sorpresa di questo inizio di campionato. I ragazzi di Albertelli, ancora una volta, raccolgono bottino pieno nell'ormai consueto palcoscenico portafortuna del capitolo. Con il Podenzano però la giornata pare incanalarsi nel peggiore dei modi. I ragazzi di Manini chiudono in vantaggio la prima frazione grazie alla rete di Giacopazzi che sfrutta il buco difensivo travese sulla punizione di Galetti. I Trebbienzi si ritrovano in dieci per l'espulsione di Sparzani e rischiano il tracollo. Sebastiani è però il protagonista assoluto di giornata con alcuni interventi strepitosi che mantengono in vita Bonelli e compagni. La Travese mette fuori il naso dalla propria metà campo al 65esimo e passa grazie a Struzzi che sfrutta il clamoroso liscio di Brusi. Cinque minuti più tardi ed è sorpasso. E' un altro neo entrato, buon tempo, ad estrarre dal cilindro la traiettoria imprendibile per l'estremo difensore Valnurino. Un golasso che vale tre punti perché Sebastiani blinderà la porta di una Travese, ora capolista a sorpresa. Nell'altro raggruppamento a Castelvetro il Pontegrino ospita la corazzata San Nazarese, priva però del suo uomo simbolo Teo Bazzarini. E l'inizio della sfida è a fortissime tinte bianco-verdi. Bergonzi dà avvio al suo pomeriggio da protagonista, ipnotizzando Saronni nel duello ravvicinato. E' un autentico monologo quello degli uomini di Corcagnani, vicino al vantaggio con i tentativi di Rossi da fuori. Bergonzi risponde sempre presente. Ci prova allora Marchini, prima con un diagonale secco, poi con un destro di pura potenza. In entrambi i casi è ancora l'ex portiere del Fiore ad esibirsi con due interventi plastici. E così, a frustrare gli sforzi dei padroni di casa, ci pensa ad un passo dal riposo Salvatore con un destro da fermo eccezionale. Un colpo durissimo da assorbire per la formazione di casa che, ad inizio secondo tempo, è castigata dall'euro-goal di Losi. Bergonzi prosegue nel suo show personale e al 75esimo il numero in velocità di Salvatore vale l'assist vincente per Spataru, che fa 3-0. A salvare la bandiera ci pensa Gazzola a 4 dal termine. A trionfare è il cinismo e la concretezza nero-azzurra che proietta la San Nazarese al secondo posto.